Un vecchio racconto di Natale narra che la notte della Natività, fra i pastori che andarono a visitare la stalla di Betlemme, ce n'era uno, un ragazzino, che si presentava a mani vuote perché non aveva niente da portare in dono, e allora mortificato e addolorato guardava i suoi compagni pastori che portavano i doni che potevano, latte, formaggio, lana, agnelli, e lui era triste. A un certo punto Maria, che aveva le mani impegnate fra i doni e il bambino che teneva in braccio, chiese a questo ragazzino che era a mani vuote, vorresti tenere il mio bambino per aiutarmi? E allora il pastorello tese le sue mani vuote e ricevette il bambino Gesù fra le sue braccia. Questo è il Natale. Prima di poter essere in grado di fare anche solo una vera buona azione, dobbiamo scoprirci vuoti d'amore per lasciarci riempire dal vero amore. Buon Natale a tutti!